Animali che forse i tuoi figli non potranno mai vedere. Il bellissimo leopardo dell'Amur si stima ne siano rimasti solo un centinaio. La loro estinzione è prevista per il 2026. Purtroppo sono rimasti all'incirca solo 3000 tigri in tutto il... 3000 tigri bellissimo dirlo così in tutto il mondo. Si crede si estingueranno entro il 2033. Il cane selvatico africano ha delle orecchie talmente grandi che riesce a prendere anche Sky senza decodere. Ne sono rimasti solo 5000. L'estinzione è prevista per il 2035. Solo 5000 ghepardi rimasti al mondo. Meritiamo davvero di non vivere su questo pianeta. L'estinzione si prevede entro una decina d'anni da oggi. Di elefanti della foresta africana ne sono rimasti un migliaio. Si prevede non ne vedremo più entro il 2030. I miei preferiti! Circa un migliaio di panda rimasti. L'estinzione è prevista entro il 2028. Soltanto una decina di vachita rimaste. L'estinzione può essere da un giorno all'altro. Seguimi per la parte 2.